Ciao, ho un lavoro per te, d'ora puoi essere ingegnere capo del nostro progetto, otterrai 3000 invece di 1000, non so, non so, io so, non molto per essere un capo ingegnere, ma probabilmente andrà bene per ricominciare, giusto? Ok, sicuro, più soldi saranno sempre utili. Ciao, ho un lavoro per te, d'ora in poi sarai ingegnere capo del nostro progetto, otterrai 3000 invece di 1000, non so, non è molto per un capo ingegnere, ma probabilmente andrà bene per cominciare, giusto? Allora preferirei prenderne solo 200 in più rispetto ad adesso, ma rimango assistente ingegnere, preferirei essere ben pegato come assistente ingegnere piuttosto che avere poco per un ingegnere capo. Grazie. Grazie. Grazie.